Ciao amici della casa che cos'è di oggi è? Ciao amici della casa che cos'è di oggi è? E' gattini, ovvero Eva. Chi è Eva? La nostra gatta. Che abbiamo adottato quasi due anni fa. Però volevamo farvi vedere com'è cambiata. Poi vi metto il link in descrizione del primo video che le avevamo fatte. Che era tutta cremina. E invece guardate, dopo quasi sei mesi era diventata così. Ed è così. Arianna vi vuol far vedere che si è fatta male? No. Ecco. Amici, noi con la nostra gattina che vi ha salutato vi salutiamo. Mettete un bel pollicione. Iscrivetevi al canale. E cliccate la campanellina. Ciao. Ciao.